Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video tutorial voglio mostrarvi come fare questo punto all'uncinetto che si chiama punto X, infatti vedete che il punto forma proprio una X spero vi piaccia e vi lascio al tutorial ok allora per andare a fare questo punto andiamo a mettere su un multiplo di 3 per fare la dimostrazione andrò a mettere su 30 punti ok quindi andiamo a fare innanzitutto il nostro primo pippiolino classico per cominciare poi andiamo a mettere su 30 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettiamo su 30 punti ok messe su le 30 catenelle adesso andiamo a lavorare così prendo il filo due volte sull'uncinetto salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta vado a lavorare in questa maniera entro nella quinta, prendo il filo, esco e ho 4 punti sull'uncinetto prendo il filo ed esco da 2 punti e mi rimangono 3 punti sull'uncinetto non lo finisco, vado a mettere su il filo sull'uncinetto salto 1, 2 catenelle e nella terza entro prendo il filo, esco e adesso esco sempre da 2 punti quindi prendo il filo, esco da 2 punti 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 faccio 2 catenelle, 1 e 2 prendo il filo una volta sola adesso vedete cosa abbiamo qua? abbiamo 2 punti qua nella metà dei 2 punti dove si uniscono i 2 punti entro praticamente in questo filo che si vede che è un po' più rialzato entro in questo e anche in quello successivo dall'altra parte quindi ho 4 punti sull'uncinetto devo proprio entrare nella metà dei 2 punti prendo il filo ed esco e ho 3 punti sull'uncinetto a questo punto lavoro la maglia alta normale quindi esco da 2 punti ed esco da 2 punti e abbiamo così creato la prima X adesso per andare a fare la prossima dobbiamo rifare da capo quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto questa volta però entro qui proprio dove abbiamo già lavorato la maglia che fa parte della X rientro nella stessa catenella prendo il filo ed esco prendo il filo ed esco da 2 punti e ho 3 punti sull'uncinetto come abbiamo fatto qua all'inizio prendo il filo una volta salto 1, 2 catenelle di base vado nella seguente quindi nella terza entro, prendo il filo ed esco a questo punto esco da 2 prendo il filo esco da 2 prendo il filo esco da 2 prendo il filo ed esco da 2 e ho creato mezza X devo andare a determinarla come faccio sempre con 2 catenelle come abbiamo fatto prima prendo il filo una volta sola e qui nel centro praticamente dove si uniscono le due maglie al centro vado a prendere questa e vado a prendere anche quella successiva prendo il filo esco e adesso lavoro la mia maglia alta quindi esco da 2 ed esco da 2 e ho creato la mia seconda X andiamo a fare la terza allora prendo il filo sull'uncinetto due volte come abbiamo fatto per le altre due rientro nella stessa maglia dove ho lavorato la mia ultima maglia questa rientro nella stessa maglia prendo il filo esco prendo il filo ed esco da 2 punti e ho 3 punti sull'uncinetto prendo il filo una volta salto 1 2 maglie e nella terza quindi nella seguente vado a lavorare così prendo il filo ed esco e adesso posso lavorare a 2 a 2 quindi prendo il filo esco da 2 punti 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 vado a fare 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo una volta e al centro dell'unione delle 2 maglie vado a prendere mi aggancia in questa maniera prendo il filo esco da 2 punti prendo il filo esco da 2 punti prendo il filo ed esco da 2 punti e ho creato così la mia terza X ne facciamo un'altra ancora prendo il filo due volte sull'uncinetto rientro nella stessa maglia dove ho lavorato l'ultima X quindi entro prendo il filo esco prendo il filo ed esco solo da 2 punti ho 3 punti sull'uncinetto prendo il filo una volta salto 1 2 maglie di base vado nella terza prendo il filo esco prendo il filo esco da 2 punti 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 faccio 2 catenelle di separazione prendo il filo una volta e vado proprio al centro delle 2 maglie prendo i miei 2 punti prendo il filo esco da 2 punti prendo il filo esco da 2 punti prendo il filo esco da 2 punti e abbiamo fatto così l'altra X di nuovo due volte il filo sull'uncinetto rientro nell'ultima maglia lavorata quindi qui dove ho fatto questa rientro prendo il filo esco prendo il filo esco solo da 2 punti ho 3 punti sull'uncinetto prendo il filo salto 1 2 maglie nella terza vado a lavorare così entro prendo il filo ed esco prendo il filo e ho 5 punti sull'uncinetto prendo il filo esco da 2 punti 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 faccio due catenelle di separazione e prendo il filo una volta alla metà delle due maglie vado a prendere i due punti quelli che uniscono le due maglie prendo il filo e esco e ho tre punti sull'uncinetto prendo il filo e esco da due ho due punti sull'uncinetto prendo il filo ed esco da due e ho lavorato la mia altra X continuiamo così fino alla fine ok vado a terminare vado a fare l'ultima X la facciamo insieme due punti sull'uncinetto entro nel solito punto esco da due prendo il filo sull'uncinetto salto uno a due vado nella terza esco da due esco da due esco da due esco da due faccio due catenelle prendo il filo sull'uncinetto vado a prendere il centro delle due maglie esco da due esco da due esco da due a questo punto ho un punto ancora e vado a lavorare una maglia alta doppia nell'ultima catenella esco da due esco da due esco da due in modo che il lavoro sia inizio e finale tutto uguale il prossimo giro lo lavoro così faccio una catenella per girare anzi due catenelle scusate due catenelle che mi servono per dopo per poter lavorare il prossimo giro il seguente a questo punto entro qui nel foro e vado a fare una maglia bassa quindi è come se avessimo fatto due maglie basse perché le due catenelle servono anche per come maglia bassa andiamo nel prossimo foro qui della x all'interno della x andiamo a fare due maglie basse una rientro nello stesso foro e vado a fare un'altra maglia bassa prossimo foro una maglia bassa e ancora nel dentro nella x vado a fare due maglie basse quindi una rientro e vado a fare la seconda prossimo foro tra le due x vado a fare una maglia bassa invece all'interno del foro della x vado a fare due maglie basse una rientro e vado a fare la seconda una nel foro e due dentro nella x una e due continuiamo così facendo una maglia bassa tra le due x e due maglie basse all'interno della x ok sono arrivata praticamente alla fine ho lavorato due maglie basse all'interno della x vado qui nel foro lavoro una maglia bassa e nella catenella nella quarta catenella vado a lavorare una maglia bassa e avrò ancora a questo punto vado a fare di nuovo il giro delle x quindi andiamo a ripetere sempre questo giro e questo giro saranno sempre ripetuti questi due giri a questo punto vado a fare una due tre quattro maglie cioè quattro catenelle giro il lavoro prendo il filo sull'uncinetto due volte vado qui nella maglia bassa la prima non la calcolo perché ho fatto già la maglia alta doppia che sarebbero le quattro catenelle quindi non in questa vado nella seguente e vado a fare l'inizio della mia x quindi esco solo da due e ho tre punti sull'uncinetto prendo il filo salto una due vado nella seguente e vado a fare esco da due esco da due esco da due esco da due due catenelle dopo di che prendo il filo e vado a lavorare al centro delle due maglie esco da due esco da due esco da due e ho fatto la mia prima x a questo punto di nuovo vado a fare la seconda prendo il filo due volte sull'uncinetto rientro nella stessa maglia appena lavorata questa esco da due punti e ho tre punti sull'uncinetto prendo il filo salto le due maglie vado nella seguente e vado a fare la parte della x quindi esco da due esco da due esco da due esco da due due catenelle di separazione prendo il filo e vado a lavorare al centro delle mie due maglie appena lavorate e vado a finire la mia x quindi andiamo a lavorare in questa maniera per tutto il giro prendo di nuovo il filo due volte sull'uncinetto rientro nell'ultima maglia lavorata ed esco solo da due punti ho tre punti sull'uncinetto prendo una volta solo il punto sull'uncinetto vado una due vado nella terza e vado a lavorare così esco da due esco da due esco da due esco da due due catenelle prendo il filo vado a lavorare al centro delle mie due maglie esco prendo il filo esco da due prendo il filo esco da due e vado a lavorare di nuovo così per tutto il giro arrivata la fine del giro andiamo a fare l'ultima x insieme quindi rientro nella maglia lavorata vado a fare esco solo da due ho tre punti sull'uncinetto prendo una volta il filo sull'uncinetto salto una due vado nella terza esco da due esco da due esco da due esco da due faccio due catenelle di separazione prendo il filo una volta sull'uncinetto vado a lavorare al centro delle due maglie prendo il filo esco da due prendo il filo esco da due prendo il filo esco da due e ho fatto così l'ultima x adesso prendo il filo sull'uncinetto due volte e vado nella seconda catenella dell'inizio che abbiamo lavorato e vado a lavorare la mia maglia alta doppia così avrò la mia maglia alta doppia all'inizio e la mia maglia alta doppia alla fine chiaramente adesso dobbiamo andare a fare il giro delle maglie basse prendo il filo faccio la due catenelle giro il lavoro entro nel primo foro e vado a fare una maglia bassa mi raccomando le due catenelle sono maglie basse quindi comunque ricordatevi che dopo dobbiamo andare a lavorarci all'interno nella x vado a lavorare due maglie una due maglie basse nel foro vado a lavorare una maglia bassa e nella x vado a lavorare due maglie basse quindi una rientro e vado a fare la seconda in questo foro ne vado a fare solo una nella x vado a farne due una rientro e vado a fare la seconda e così vado a terminare il mio giro di maglie basse allora arrivata la fine del lavoro naturalmente andiamo a fare una maglia bassa e una maglia bassa nella quarta catenella quindi una due tre e nella quarta andiamo a fare una maglia bassa e adesso dobbiamo andare a ripetere il giro delle x quindi vado a fare una due tre quattro giro il lavoro prendo il filo sull'uncinetto due volte nella maglia successiva vado a fare la maglia quindi esco solo da due punti prendo il filo salto una due maglie vado nella terza e vado a lavorare così esco da due esco da due esco da due esco da due due catenelle una due prendo il filo vado nel centro delle due maglie vado a prendere i due punti prendo il filo esco da due esco da due esco da due e continuiamo così ripetendo sempre il giro delle x e il giro delle maglie quindi uno e due andiamo sempre a ripetere questi due giri fino all'altezza desiderata credo che sia molto bello questo punto anche per fare un maglioncino estivo ma anche uno invernale con le maniche lunghe comunque potete fare anche una sciarpa potete fare veramente qualsiasi cosa con questo punto quindi andiamo avanti per qualche giro così ve lo faccio vedere un po' più lavorato ecco ne ho lavorato ancora un po' questo è il risultato una volta lavorato un po' di giri insomma è molto molto bello io almeno a me piace molto spero vi sia piaciuto anche questo tutorial fatemelo sapere nei commenti un grosso bacio e a presto ciao